Il popolo di Twitter è strano perché da un lato, dopo che tu hai fatto tutto questo racconto, guarda a te per la cravatta che porti e a me per il calzino che porto. Non svilire la nostra audience sino a questo punto. Ci sono arrivate richieste, Sara, Lorenzo, Maria Luisa, per città, che ci hanno detto quanto starebbe bene Cisnetto con la cravatta stile Caprarica e quanto starebbe bene Caprarica con le calze che indossa Cisnetto. Allora, siccome non ci possiamo togliere le calze con tutte le calze, io ho pensato di fare uno scambio, ce lo portate? Anch'io, ho aderito volentieri a questo scambio. Allora, io non so chi ne uscirà peggio, tu te ne metti queste? Queste io le regalerò a mia moglie che adora questi calzini l'inverno quando fa freddo, quindi se Yolanta non si offende perché potrebbe trovare la cosa inappropriata, ti devo confessare che è abbastanza improbabile. Però la prossima volta che mi inviti mi lo metti, però guarda che cravattina che ti ho portato io. No, voglio dire, scusate, non è mica la stessa cosa. Se a lui non si mette questa, io mi metto questa. Grazie. Grazie.